Amici di Telea 1, ci avviciniamo non soltanto all'approssimarsi della festività della Santa Pasqua ma anche ad un'altra festività cara alla comunità coriglianese e rossanese e non solo, quella ossia del 19 marzo, festa del papà e tradizionale festa dedicata a San Giuseppe, un santo caro alla fede e alla devozione popolare. Un'occasione non soltanto per riscoprire le tradizioni locali ma anche la gastronomia locale il cui simbolo spesso associato a questa data è quello appunto delle caratteristiche gustose zeppole. Ne parliamo oggi con Giorgio Lombisani che ringraziamo per la presenza e la disponibilità che è uno storico operatore commerciale del settore impegnato soprattutto nel settore dolciario da oltre 20 anni nella popolosa frazione di Schiavonea. Giorgio, che significato ha ancora oggi la festività del 19 marzo e soprattutto dacci qualche curiosità sulle zeppole? Innanzitutto un caro saluto a tutti quanti, buongiorno a tutti. Beh, diciamo che la festa di San Giuseppe da noi negli ultimi anni cresce sempre di più e si tramanda diciamo da tantissimi anni e come ho detto poco fa insomma negli ultimi anni sta crescendo in modo esponenziale. Noi siamo preparatissimi per quanto riguarda le zeppole sia quelle al forno che quelle fritte e ovviamente anche noi diamo il contributo che finché questa festa insomma sia sempre più splendida per i papà insomma e per tutti quanti insomma. Giorgio, siamo circondati da pastiere, simbolo della festività pasquale che si avvicina ai primi di aprile, dalle zeppole di San Giuseppe. Che significato ha ancora oggi cercare di mantenere vive queste tradizioni anche sulle nostre tavole soprattutto alla luce dell'emergenza epidemiologica che purtroppo stiamo vivendo da oltre un anno? Beh, purtroppo vista la situazione insomma nell'ultimo anno purtroppo stiamo vivendo un momento veramente drammatico. La tradizione io dico che deve rimanere per sempre nella nostra terra, nel nostro territorio. Questo affinché insomma noi specialmente alla generazione futura ci dobbiamo sempre tramandare queste tradizioni che sono magnifiche insomma diciamo per il nostro territorio e non solo, anche a livello nazionale. E quindi noi cercheremo sempre in tutti i modi possibili di mantenere la tradizione che si tramanda diciamo da secoli. Tradizione che lo ricordiamo spesso nell'antichità è stata caratterizzata dal famoso paghiaro di San Giuseppe. E allora grazie a Giorgio Lombisani manteniamo vive le nostre tradizioni con le zeppole e gli altri prodotti tipici di queste festività. Grazie a Giorgio e grazie a tutti voi. Grazie e auguri a tutti voi.